io non feci allora nessunissima considerazione prima perché non potevo pensare neppur lontanamente che mi sarei ridotto a quest'ufficio poi perché me l'avrebbe impedito un gran tramestio su per le scale del dormitorio e un irrompere confuso e festante di tutti quei ricoverati già scesi allo spogliatoio per ritirare i loro panni che era accaduto? ritornavamo su insaccati di nuovo nei bianchi accappatoi e con le pantofole ai piedi tra loro e insieme coi custodi e le suore di carità dette a ricovero e alla cucina economica erano parecchi signori e qualche signore tutti ben vestiti e sorridenti con un'aria curiosa e nuova due di quei signori avevano in mano una macchinetta che ora conosco bene avvolta in una coperta nera e sotto il braccio il tre piedi a gambe rientranti erano attori e operatori di una casa cinematografica e venivano per un film a cogliere dal vero una scena dell'asilo notturno la casa cinematografica che mandava quegli attori era la Cosmograph nella quale io da otto mesi ho il posto d'operatore e il direttore di scena che li guidava era Nicola Polacco o come tutti lo chiamavano Cocò Polacco mio amico d'infanzia e compagno di studi a Napoli nella prima giovinezza depo a lui il posto e all'affortunata congiuntura ad essermi trovato nella notte con Simone Pau in quell'asilo notturno ma né a me ripeto venne in mente quella mattina che mi sarei ridotto a collocar sul tre piedi una macchina da presa come vedevo fare a quei due signori né a Cocò Polacco di propormi un tale ufficio egli da quel buon figliuolo che non stentò molto a riconoscermi quantunque io riconosciutolo subito facessi di tutto per non essere scorto da lui in quel luogo miserabile vedendolo raggiante deleganza parigina e con un'aria e un'impostatura di condottiero invincibile tra quegli attori quelle attrici e tutte quelle reclute della miseria che non capivano più nei loro bianchi camici dalla gioia ad un guadagno isperato si mostrò sorpreso di trovarmi là ma soltanto per l'ora mattutina e mi domandò come avessi saputo che egli con la sua compagnia dovesse venire quella mattina nell'asilo per un interno dal vero lo lasciai nell'inganno che mi trovassi lì per caso come un curioso vi presentai Simone Pau l'uomo dal violino nella confusione era scattaiolato via e rimasi ad assistere disgustato alla sconcia contaminazione di quella triste realtà di cui avevo nella notte assaporato l'orrore con la stupida finzione che il polacco era venuto a inscenarvi ma il disgusto forse lo sento adesso quella mattina dovevo avere più che altro curiosità ad assistere per la prima volta all'inscenatura ad una cinematografia pure la curiosità a un certo punto mi fu distratta da una di quelle attrici la quale appena intravista me ne suscitò un'altra assai più viva la Nestorov possibile mi pareva lei e non mi pareva quei capelli d'uno strano color fulvo quasi cupreo il modo di vestire sobrio quasi rigido non erano suoi ma l'incesso dell'esile elegantissima persona con un chiedifelino nella mossa dei fianchi il capo alto un po' inclinato da una parte e quel sorriso dolcissimo sulle labbra fresche come due foglie di rosa appena qualcuno le rivolgeva la parola quegli occhi stranamente aperti glauchi fissi e vani ad un tempo e freddi nell'ombra delle lunghissime ciglia erano suoi ben suoi con quella sicurezza tutta sua che ciascuno qualunque cosa e la fosse per dire e per chiedere le avrebbe risposto di sì varia Nestorov possibile attrice d'una casa cinematografica mi balenarono in mente Capri la colonia russa Napoli tanti rumorosi convegni di giovani artisti pittori scultori in strani ridotti eccentrici pieni di sole e di colore e una casa una dolce casa di campagna presso Sorrento dove quella donna aveva portato lo scompiglio e la morte quando ripetuta per due volte la scena per cui la compagnia era venuta in quell'asilo Cocò Polacco mi invitò ad andarlo a trovare alla Cosmograph io ancora in dubbio gli domandai se quell'attrice fosse proprio la Nestorov sì caro mi rispose sbuffando ne sai forse la storia gli accennai di sì col capo ah eh ma non puoi saperne il seguito riprese Polacco vieni vieni a trovarmi alla Cosmograph oh te ne dirò di belle gubbio pagherei non so che cosa per levarmi dai piedi questa donna ma guarda è più facile che Polacco Polacco chiamò a questo punto con lei e dalla premura con cui Cocò Polacco accorse alla chiamata compresi bene qual potere ella avesse nella casa ov'era scritturata quale prima attrice e con uno dei più lauti stipendi alcuni giorni dopo mi recai alla Cosmograph non per altro per conoscere il seguito della storia purtroppo a me nota di quella donna che c'è